Dopo il mezzo allenamento effettuato contro la Virtus Cilento alla Scea su un campo di patate vergognoso alle soglie del 2022, la settimana che porta alla sfida con il Salernum di Baronissi e scaldita da un refrain che rimbalza negli ambienti agropolesi. Sorpasso. Contro la formazione di Castiello a quale sono riferite le immagini, l'Agropoli ha vinto per ben 5 a 2 domenica scorsa, soffrendo oltre il dovuto un terreno di gioco inopportuno e impresentabile rispetto al calcio moderno, anche dilettantistico. Iemois ha segnato una doppietta, giocando con rilassatezza e perfezionando l'intesa con Margiotta. Il centravanti in settimana aveva compiuto i suoi 40 anni, ma non li dimostra affatto e non solo nel campo. Le sue pupille azzurre sono lo specchio del colore dei delfini, di cui è bandiera e capitano. È troppo importante Margiotta per lo scacchiere di Cianfrone, la sua presenza in campo è fondamentale. In gol poi per l'Agropoli ci sono andati anche Natiello di testa, Monzo la sua seconda segnatura stagionale e Masocco. L'Agropoli è in corsia di sorpasso, ha un solo punto di distacco dalla prima della classe, cioè il San Marzano, ma domenica la formazione di Pirozzi ha un turno molto molto difficile, affronterà in casa Langri, mentre l'Agropoli ospiterà la squadra comunque non semplice da battere che è il Salernum di Baronissi. Squadra da non sottovalutare, capace di affondare i suoi colpi sul campo della Calpazio. Nell'Agropoli l'asticella è alzata grazie a Costantino e Ieboa. I due stanno dando prova che per loro il campionato di eccellenza sta molto stretto. Poi una rosa sicuramente buona, anche per un ottimo piazzamento in Serie D. Due centrali fortissimi, sei centrocampioni, uno più forte dell'altro. Una prima linea di qualità, con Ieboa e Margiotta, Baccio, Rocchi, Vitelli, costituiscono elementi di grande affidamento e di consolidata capacità di fare bene. I due esterni più fuori del campionato, Maiese e Matrone, una squadra insomma formidabile per la categoria. Forse la rosa degli under lascia un po' a desiderare. A parte tra Belsi e Grieco, non ci sono altri elementi in grado di benfigurare. Gli ultimi due tesserati, Guangosè Duco e Miguel Alba, dovrebbero arricchire la rosa di per sé già molto competitiva. Ma per domenica occhio al Salerno di Baronissi, che avrà defrazione importanti, ma non per questo è meno incisiva. Si tratta di una compagine di tutto rispetto, che l'Agropoli non può permettersi di sottovalutare, se vuole pensare di portare avanti il discorso promozione. La tappa contro il Salerno di Baronissi è senza ombra di dubbio una tappa fondamentale. Grazie a tutti!